Salve a tutti, oggi vi ho con un gioco The Rio Trick, un gioco che ho inventato io, prendendo sfondo in precedenza di un altro video. Mi schiamo un po' le carte, le mostro allo spettatore che ne pescherà una casualmente. Lo spettatore guarda la carta, la ricorda e la rimette nel mazzo, cosicché posso farla di spedere in un punto qualsiasi, in questo caso diciamo centrale. Mischiamo le carte, ed ecco qua. Io credo, spettatore, che la tua carta sia più o meno in questo punto. Io credo che la tua carta sia questa. Non è questa la tua carta, spettatore? No. Ok. Quindi la carta che ho pescato casualmente, credendo che fosse la tua, non era quella realtà. Ma tu, spettatore, le sei sicuro? E quest'altra carta, spettatore? Sì. La regina di qua. Chiusura del Rio Trick. Grazie. Grazie. Grazie.